Ok ragazzi, ora provo a saltare la corda Ok Sono fortissimo Buonasera amicos e benvenuti in questo nuovo video Io sono Franci e oggi siamo tornati in un nuovo vlog Non ho fatto video per due settimane Perché sono stato un po' male Sono stato anche impegnato con la scuola Però con questo sfondo natalizio Che è il mio albero di Natale Vi dico che rincomincerò a fare video Io penso tra, non lo so, cinque giorni più o meno Perché devo aggiustare delle cose E visto che è la vigilia voglio documentare Capito? Volevo dirvi che visto che c'è questo covid Non si può stare fuori dalla propria casa Fino alle 10 Dopo le 10 di sera ovviamente La gente deve ritornare a casa Quindi io, mio papà, mia mamma e mio fratello Andremo a casa di Asia Voi la conoscete Asia? La conoscete anche perché i miei primi video erano con lei Era un canale condiviso Poi è diventato mio E comunque faremo anche una challenge Ho cambiato anche l'intro Ringrazio il mio amico Chiamato Rocco Non è vero Il mio amico si chiama Joel Si chiama come mio fratello Ma non è mio fratello Lo ringrazio per la intro Mi ha fatto anche un altro Poi la vedrete alla fine del video Vabbè, non ho nient'altro da aggiungere Ci vediamo a casa di Asia Ciao Nelle veste di Babbo Franci Sono qui per farvi vedere una cosa davvero importante Asia Che si lava le mani Vero che è importante questa cosa? Si lavati le mani La raccomando bambini Lavatemi le mani Per bene Allora, Babbo Franci e la renna Asia Ciao Chiameranno Un'amica di Asia Le faranno uno scherzo telefono Riprendiamo Asia Mi allontano così si prende bene Asia Ah, ho finito il Covid Si? Si, mi dispiace Non posso chiamare perché ho finito il Covid Questa è una persona che non è ben illuminata Questa è una persona che sta essendo illuminata È già male Un'altra allora E che chiamiamo? Alla mia compagna Allora, vuoi chiedere alla mia migliore amica? A chi? Ad Aurora Con lei si vici, signora Allora Ok Auro, se vedrai sto video su Youtube Ti scusa per questo scherzo Ti voglio dire che Ti amo, vita mia Allora, digli Che stai male E digli che Anzi, digli che non sei più sua amica Perché Perché tipo No, ho già fatto questo scherzo Io ho già fatto lo scherzo che stavo per Che mi volevo ammazzare Volevo morire E poi non l'hanno presa bene Stavano per chiamare mia mamma in l'ambulanza Pronto? 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 Chi è? Sarò Genovezza Genovezza Chiudi, chiudi Stacca, stacca Ce l'ho tracciata Stacca, stacca Ci vuole una musichetta triste Con questo povero pupazzo Che ha perso la gamba E tre Due Uno Musica triste Chiamiamo l'ultima persona Prima tipo A una tua amica Io gli dico Prima andoci a un pacco di Amazon Vai Allora Non ci vuoi Ma non hai altro Abba scusa Mi ha portato un bel amico Paccato Scusami per la chiamata Fai un numero a muzzo Chi non sa che vuol dire L'espressione a muzzo Vuol dire a caso Uno però Ora risponde Il numero selezionato È inesistente O momentaneamente E ma che ne so Se esistono i numeri io Che ne so io Allora ragazzi Ho deciso di dividere Questo video in due parti Una parte dove sono Alla vigilia dentale d'Asia E una parte il 25 dicembre Natale da Giorgia Ok Oggi è il 25 dicembre E andremo a casa Di mia cugina Giorgia Voi la conoscete anche Già L'avete già vista In alcuni miei video Ci vediamo a casa di Giorgia Ciao Da Giorgia Ciao Giorgia fa Giorgia fa Ginnastica ritmica Ora Faccio vedere come sei brava A fare l'ulao Basta No Ora pure con la corda Ci devi far vedere Vai Nel collo Vai Col collo vai Nel collo Nel collo Prova a fare l'ulao Signora Giorgia Ci faccio vedere Come si fa con la corda Facciamo una cosa Vai Signor Gioele Gioi vai Ok Va bene Ora vediamo Giorgia Come salta Come fa Giorgia Che cosa bella Che cosa femminile Di gridare così Vero Brava Sta volando Dobbiamo fare una challenge No Dai Giorgia No Dai Ma sto per questa cosa Che non Devi venire a fare la challenge Devi venire No Vieni 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 Tu devi venire Allora Io e Giorgia Giocheremo Ai mimi Uno Mimerà una parola Scelta casualmente E l'altro Dovrà indovinare E in questo caso Giorgia inizia a mimare La parola Che ha Un generatore casuale Di parole E Non 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 E poi scriverò La parola Che si trova Non mi preoccupare Ok Dai Quella Non devi parlare Sedersi Devi prendere anche a me Secondo me è una con dei problemi Ne rendo Che cavolo deve essere Guardi Scongelare Guardi Scongelare Io prendo Scongelare Io prendo un prodotto Dal freezer Chiudo Lo metto Era meglio una con dei problemi Tocca a me Comunque dai Tocca a me Ci stiamo provando Allora Vai siedi Ok Ho trovato Voi vedete la parola Qual è? È un po' difficile Ok vai Seguolo imito Vai Lo sto imitando L'animale Questo Fai che è un animale Ok È quello Sto animale Un animale Intrappolato Arpola per topi Sì Come hai fatto? No veramente Come hai fatto? Come hai fatto? A fare Ciao Ok allora Giorgio è indominato Non so come Ed è uno a zero Faremo tre Trappolato per topi Faremo tre A testa Quindi uno l'ha fatto lei Uno io Adesso tocca di nuovo a lei Vai Giorgio Io ho già scelto la parola L'ha già trovata Più che scelta Sarà lei minare Minare? Aiuto Aiuto Ginnasta? No Esigire cose Se scende della cosa Ah Glessidro Alleluia Ok Trovate la parola Supponiamo che qui ci sono delle persone Ok Vediamo Eccolo Ti ho perso Allora Ok Fai che questa è una rappresentativa E la chiuse Arrivano Ok tu tipo li apri e li vedi di scappare Sì Verbo Che cos'è? Ti do due possibilità Correre No Tu li Li liberi Quindi All'infinito Che ne so Li liberare Sì No no Non me le rompete Allora Cosate Una palla Questo cos'è? Albe Il tappeto cos'è? Un cerchio È O che cos'è? È nell'universo La luna Il sole Tanti Ci voleva Il pianeta Ok Al plurale Adesso Se Giorgia Ti metti in ginocchio Che ne so Come si può dire In ginocchio Ti inginocchi Ti siedi No Inclini Ti Ma che è? Questa cosa Fai tipo Su Fortnite Dai Ti dico Cosa dici Quando una cosa è giusta C'è tipo Uno ti fa una domanda Ed è vero Tu gli dici Evviva Giorgia Tu hai 12 anni? Sì Sì A qua C'anni A qua C'anni Sì Eh sì Ti ho dato l'anserginamento Io ho dato l'anserginamento Io ho dato l'anserginamento No mezzo punto Io ho dato l'anserginamento Mi l'hai aiutata tanto Molto Due e due Ultimo round Dove facciamo la battle royale No Ok Ultimo round Facciamo Trovami la parola È morto lui Perfetto Ciao Ginocchio Ginocchio Ha fatto così Così ha fatto se non si è visto Ginocchio Ginocchio Ok Caposquadra Capostazione Voglio la mano del capo Aspetta È militare Sì Facciamo così Certo Spareggio Sfila del 2016 Spinner Che lo fa cadere prima Perde No io voglio quello verde No io voglio quello verde No io ho capito Lo dobbiamo spingere tre volte È il primo che si mette in giro Le perde Ok Ok tre due uno via Uno Due Tre È vero bene quella di Franci Però Anche quella di Giorgia Aaaaa Così la peggiori Non è giusto Ci ha soffiato sopra Dai Non è giusto Giorgia in broia Ha vinto Giorgia Facciamo il secondo Però vediamo Facciamogli fare con sta parola E basta Così Hai vinto a chi sia Quella suona Alla porta Fantasma 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 Sì Giochiamo a tombola E poi ce ne andiamo Ehi Gior Aspetta Ehi Giorgia Sei felice che noi ce ne andiamo? Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate like Iscrivetevi al canale E attivate la campanina Per ricevere le notifiche Nel mio video Adios Adios